Nella moderna medicina viene spesso affermato il valore della centralità del paziente, si dice mettere il paziente al centro, poi in realtà spesso questo non viene fatto nella pratica e il paziente quando si rivolge per un problema di salute a una struttura universitaria o a una struttura ospedaliera deve affrontare un percorso ad ostacoli tra diverse unità, diversi segmenti del suo processo di cura. Creare all'interno di un grande ospedale centro accademico, un centro per le malattie dell'apparato digerente, mediche, chirurgiche, con l'approccio sia terapeutico che diagnostico, ha il valore di porre il paziente al centro e fare attestare tutti i processi di diagnosi e cura che lo riguardano all'interno di un unico involucro, di un unico ambiente complesso e di nuova realizzazione che tra l'altro coniuga la bellezza architettonica di una concezione nuova dell'ospedale con l'efficacia delle realizzazioni e degli investimenti tecnologici che sono stati in esso collocati. Perché noi crediamo che un ospedale moderno si declini per temi e sicuramente le malattie dell'apparato digerente sono un tema di grandissima importanza per la popolazione e per lo stato di salute generale. Essere accompagnati in questo percorso di diagnosi e cura anche in una ambientazione gradevole che pone appunto il paziente al centro e lo accompagna con messaggi sulla qualità della vita, sugli stili di vita, sulle corrette abitudini alimentari, dietetiche o anche semplicemente comportamentali è qualcosa che aggiunge valore all'attività che tradizionalmente gli ospedali fanno. Grazie 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 Grazie